Una mozione che sperano possa essere replicata a livello territoriale da tutti i comuni dell'isola che intendono sostenere la candidatura della Sardegna, l'Einstein Telescope, i rilevatori di onde gravitazionali di terza generazione che potrebbe cambiare le sorti economiche della regione. E' firmato dai consiglieri comunali di Olbia e del PD, lato con cui si chiede l'impegno formale all'amministrazione comunale di diventare soggetto attivo a sostegno dell'ambizioso progetto Per Stefano Spada, Ivana Russo, Antonio Loriga, Gianluca Corda, Maddalena Corda e Rino Piccino, l'Einstein Telescope favorirà uno scambio scientifico internazionale da cui si possono intuire la portata sociale dell'esperimento e i notevoli vantaggi per l'isola. Porterebbe nell'isola, nell'arco di 9 anni, 36 mila posti di lavoro e 4 miliardi e mezzo di investimenti. Quindi una grande opportunità per le generazioni attuali e quelle future è una grande visibilità a livello internazionale per la nostra terra quindi con grandi ripercussioni nell'aspetto economico, turistico, demografico, portuale e aeroportuale. Nella mozione i consiglieri del PD ricordano i numeri del progetto e le opportunità derivanti dalla sua installazione a Lula che dista da Olbia un'ora d'auto. Oltre 4 miliardi e mezzo di euro di investimenti, 36 mila posti di lavoro in 9 anni e prospettive di sviluppo economica e sociali. Grazie. Grazie.